Ragazzi, questa volta non ho mantenuto i patti. Mando la sigla e poi ne parliamo. E sì ragazzi, come si suole dire, patti chiari amicizia lunga. Questo video doveva uscire quando il precedente sarebbe arrivato a 2500 like. Non è arrivato neanche a 1300 quando sto registrando questo video. Ma rompo il patto e ve lo pubblico lo stesso. Perché so che molti di voi ne hanno bisogno, soprattutto stasera. Però ve lo chiedo ragazzi, supportate veramente tantissimo con like, commenti, condivisioni. Questi video, ok? Io proverò anche a portarvene altri di vario genere, varie serie. Voi sintonizzati sul canale, attivate la campanella. Passate il link che trovate in descrizione. C'è anche il link per scaricare OneFootball. L'applicazione che vi tiene aggiornati su tutto il mondo del calcio. Utile anche per i fantallenatori. L'ambulanza la salutiamo, ovviamente. E ovviamente, ragazzi, quindi in descrizione trovate il link per scaricarla. Tra l'altro sono andato a prendere un articolo che preoccupa un po' i fantallenatori. Di cosa si tratta? Ve lo mostro immediatamente. Se ci riesco. Se dalla regia mi dicono, mi danno l'ok. Milan complicato il rinnovo di Cialanoglu a gennaio potrebbe partire. E già vi vedo, ragazzi. Già vi vedo. Chi l'ha preso è già preoccupato. Chi lo voleva prendere adesso c'è un po' di dubbi. No, in realtà, credo, possa fare comunque bene. Possa mantenere allora lo stesso valore all'asta. Ovviamente, le richieste, ecco, del calciatore sono abbastanza esigenti. Perché adesso ho iniziato a fare lo sperto. Quando faceva cagare, il Milan doveva aspettarlo. Adesso che fa bene, ovviamente, l'endourage chiede un po' di più. Però, penso comunque che si troverà un accordo. In ogni caso, è vero che è anche un giocatore che all'estero potrebbe avere molte richieste. Però, voi non sottovalutatelo all'asta. Ok? Mi raccomando, perché potrebbe avere comunque un buon rendimento. Link in descrizione, ragazzi. Vi potete leggere benissimo l'articolo. Se di questo potrete restare aggiornati. Andiamo a vedere il nostro file. Vi ricordo che il nostro file, ragazzi, lo trovate in fondo. Alla descrizione c'è appunto la cartella del drive. E questo, Fanta Classic Definitivo Aggiornato, è quello che dovete scaricare. Per chi fa il mantra, mi serve un po' più di tempo, ragazzi, per almeno copiarvi i nomi anche in quel file. E, diciamo, rendervelo disponibile. Poi li andate a spostare voi in base ai ruoli. Ma, come vi ho detto, il prossimo anno avremo un file diverso per il mantra. Per quanto riguarda, invece, il menu a tendina, che non funziona per l'aggiornamento del coso, ci stiamo lavorando con il nostro staff, con il buon Fabio. Cercheremo di sistemare anche il menu a tendina una volta finito il file. Poi vi ricordo il nostro solo è in descrizione e adesso andiamo all'interno del nostro file. Ok? Eccoci qui. Dovremmo esserci già perfetto. Siamo con gli attaccanti a questo punto. Allora, ragazzi, io ovviamente non mi soffermerò sui nomi già trattati a settembre, soprattutto per quei giocatori che hanno mantenuto la stessa valutazione che io avevo dato. Cioè, cosa voglio dire? Se vi avevo detto, puntate su quel giocatore vendendoci tanti crediti perché potrebbe fare un determinato rendimento e al momento sta dimostrando proprio quello, ma è inutile che mi soffermo a dire altro. Ok? Perché sono d'accordo magari con l'analisi che vi ho già fatto. Ho modificato al massimo leggermente le percentuali, le ho avvicinate, ho alzato leggermente quella di Zapate di Ibrahimovic, ad esempio. Ho sistemato qualcosa di ciò e iniziamo invece con Caputo che, se ricordate, prima era in cima i semi-top proprio perché per me Caputo è il perfetto secondo slot da andare a prendere, quindi la spalla da affiancare al nostro primo slot. Ma so che in alcune leghe numerose verrà preso come primo slot, quindi l'ho voluto inserire lì all'interno della prima fascia dei top, anche perché come rendimento potrebbe raggiungere di nuovo i 20 gol. È già partito benissimo, ogni tanto tirerà i rigori, ma non l'ho voluto inserire il discorso rigori lì all'interno delle note perché con Berardi i ragazzi se li dividono, ok? Come abbiamo potuto vedere in queste giornate. Quindi non è una caratteristica precisa per Caputo. Poi per quanto riguarda invece Martinez è partito a bomba, ve l'ho sempre consigliato come secondo slot già l'anno scorso e anche quest'anno, però ovviamente è micidiale, già tre gol in tre giornate e quindi si conferma uno dei migliori secondi slot. Insieme a lui Muriel, anche lui è partito molto bene e soprattutto con la situazione anche di Ilicic sta giocando anche più spesso da titolare. Insomma potrebbe avere un minutaggio ancora più ampio che gli garantisce ancora più bonus, ok? Oltre che essere anche rigorista. Poi Di Bala invece la B, come vedete minuscola, sia per lui che per Morata che era il famoso Mister X, no? Poteva essere in teoria Milik che aveva voci di mercato, ora ci si mette pure il cane di sottofondo, questo ragazzi rompe sempre le scatole e ovviamente entrambi perdono un po' di appetibilità perché avranno questi leggeri ballottaggi anche con Klusveski, insomma non è ben chiaro il minutaggio che potranno avere e quindi anche il valore e il rendimento che avranno durante la stagione. Quindi come secondi slot non sono male ma ti danno secondo me un po' meno certezza a livello di gol che potrebbero portare, ok? Credo che comunque Di Bala potrebbe fare la doppia cifra e portare anche un buon numero di assist, quindi avere una buona costanza nelle valutazioni. Morata credo invece sarà discontinuo ma potrebbe segnare di più. Magari 12-13 gol li potrebbe fare, arrivare forse addirittura alla stagione 15 nel caso in cui dovesse giocare molte partite anche da titolare. Vedremo come si svolgerà del tutto. Per quanto riguarda i tre giocatori del Napoli invece confermo l'analisi che vi ho fatto precedentemente. Buoni giocatori in signe, titolarissima rigorista, Mertens appunto va bene. Insomma non è inutile che ripeto su di loro. Mentre Quagliarella è partito bene, vi avevo detto ragazzi, giocatore che comunque ha dalla sua l'esperienza per conquistarsi anche dei calci di rigore, per appunto metterla dentro in alcune situazioni e insomma la sua doppia cifra la porterà sempre, potrebbe portare anche i 15 gol. Quindi se lo andate a prendere addirittura come terzo slot è perfetto. Per quanto riguarda invece Berardi e Pedro sono partite abbastanza bene. Berardi soprattutto, già diversi bonus. La mia predizione sulla possibilità della doppia cifra si sta, secondo me, confermando. Mentre Pedro, anche lui, sta rispettando le mie aspettative, soprattutto per quanto riguarda la costanza. Ok? Infatti è proprio la caratteristica che vi avevo scritto, no? La costanza potrebbe effettivamente anche lui raggiungere in teoria la doppia cifra, però comunque mescolerà un po' di assist, un po' di gol e buone prestazioni. Ok? Questo è il mio pronostico. Andiamo in terza fascia scommesse. Partiamo dalle giocatori che valgono leggermente appunto di più, ovvero Ribéry. Sta facendo bene, buone prestazioni. Non segnerà chissà quanti gol, ma nel complesso potrebbe comunque fare una buona stagione. E' il classico jolly da portarsi nella panchina. Per chi non sa cosa sono i jolly, andate a recuperare le vecchie guide, sia di quest'anno ma soprattutto quelle degli anni precedenti, perché lì spiego i vari ruoli. Il jolly, il titolare scarso, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, Orsolini, anche lui. Il problema è che però, se vedete, ha la B minuscola, perché essendo stato anche un po' fuori in queste giornate, si è messo in luce Scovolsen, che vedete qua in basso nelle scommesse, e questo fa sì che i giocatori potrebbero alternarsi molto, quindi perde molta pedibilità. Keita Balde invece nel frattempo è arrivato, potrebbe, diciamo, avere un valore un po' strano. Da quinto slot ci potrebbe stare. Sarà un po' complicato capire quando schierarlo. Tra l'altro, secondo me, secondo me, è dimenticato anche Gabbiadini, perché l'ho spostato, non sapevo dove più piazzarlo. Ecco, questo è un po' un problema, che adesso nella Samp bisogna capire un po' le gerarchie. E' partito Bonazzoli, è arrivato Keita, c'è ancora appunto Gabbiadini e Quagliarella. Ovviamente Quagliarella sarà spesso spessissimo titolare. Vediamo un po' il ruolo che avrà Keita. L'appetibilità ce l'ha, ma come panchinaro da utilizzare all'occorrenza. Infatti ho messo la caratteristica jolly con l'asterisco, però. Poi è arrivato anche Kalinic al Verona. Toglierà il posto di Carmine, che infatti ho dovuto mettere tra le scommesse extra, perché non sappiamo adesso la valutazione che può avere al fondacalcio di Carmine. Un po' più alta ce l'avrà Kalinic, ma l'ho piazzato lì in terza fascia. In realtà non mi sento neanche di fare quel rilancio che c'è scritto lì, ma di prenderlo come sesto slot. Massimo come quinto, in leghe molto numerose. Dovrete essere anche bravi nel schierarlo nelle giornate giuste. Quindi non mi fa impazzire. Come giocatore non credo, magari arriverà alla doppia cifra. Potrebbe fare 7-8 golle e aiutare molto la squadra. Vediamo, potrebbe magari fare la doppia cifra, ma dipende anche dai compagni di squadra. Poi Zaza invece, biminuscola, perché arrivando Bonazzoli ha un'appetibilità, secondo me, inferiore. Quindi perde un po' anche quella sorta di caratteristica che c'è scritta lì, titolare è scarso, ci potrebbe inserire l'asterisco. Però vanno un po' in contrasto le due cose. Mentre Galabinov è partito bene. In realtà qui ci va una bella B grossa su Galabinov, perché era partito forte. L'unico peccato è l'infortunio. Sarà un po' fuori. Ovviamente parliamo sempre di nomi super low cost, ragazzi, da avere adesso negli ultimi slot e in leghe numerose. Perché in lega 8 io vi consiglio di riuscire a fare un attacco con questi nomi qua in alto. Quindi i primi tre, tra i top e semi top, dovete averne già tre qua all'interno. Io faccio sempre un attacco del genere, arrivando molto più ricco. Poi, soprattutto in lega magari a 10, potete andare a prendere magari Berardi, Rebic, io vedo come terzo barro, ok? Ma in lega 8 dovete già comporlo da questa parte. Quindi capite bene che non dovete andare a prendere questi nomi, soprattutto in lega 8. A 10 già qualche scommessa, come se sto slot ci può stare. Passiamo alle scommessine. Lo Zano ha confermato anche le mie sensazioni positive. L'ho preso in più di un fan da calcio, in uno addirittura ho azzeccato la doppietta. Ora, il problema è che avrà comunque spesso il ballottaggio, quindi non sarà proprio sempre titolarissimo. E questo vi complica un po' la schierabilità. Quindi state attenti, non spendeteci troppo. Prendetelo come sempre, come uno di terza fascia, ok? Il mio consiglio. Poi, Ilicic, l'ho voluto sottolineare perché, con la caratteristica che c'è dell'attesa, essendo già passate diverse giornate, l'attesa si sta riducendo. Il mio dubbio è solo su un'eventuale possibile partenza a gennaio, nel caso in cui magari vuole cambiare aria. Non lo so, ragazzi. Io penso che comunque, se avete un reparto già completo, un credito, qualche credito su di lui potete anche metterlo. Onas è arrivato al Cagliari. Potrebbe essere un Jolly. Io ho messo l'asterisco perché si alternerà con Sotil, con Pereiro. Quindi non è proprio titolarissimo. Però potrebbe comunque regalare qualche gioia, qualche bonus in un fantacalcio, una lega molto numerosa. Ve lo piazzate lì, quinto, sesto slot, e lo utilizzate all'occorrenza. Ma dovrete indovinare la giornata giusta. Poi, Bonazzoli è cambiato. Sampdoria, Torino. Adesso cosa va? Qui si c'è appetibilità, la perde. A mio giudizio, la b minuscola. Perché? Perché la perde leggermente. O meglio, conosceva bene ormai l'ambiente Samp. Ha fatto bene l'anno scorso. Aveva Quagliarella che lo faceva crescere. Adesso cambiare società non so quanto bene gli possa fare. È vero che comunque ritrova, cioè, trova un Belotti che può aiutarlo in determinate situazioni. Però, sinceramente, è un po' più incognita adesso il suo possibile rendimento. De Frello l'ho voluto sottolineare perché De Zerbi, veramente, è un altro fan d'allenatore da macchina, diciamo, da bonus, un po' come Casperini. E De Frello comunque giocherà, sta giocando e sta portando anche dei bonus. A talvolta è anche rigorista in base alle situazioni. Insomma, Johnny con l'asteresco perché non sarà sempre titolare. Però potrebbe essere una scommessina interessante per lei che è soprattutto molto numerosa. Piazza è arrivato al Genua. Può essere preso anche qui come quinto, sesto slot, dipende dal numero di partecipanti. Però non mi aspetto arrivi alla doppia cifra. Farà qualche gol, farà anche qualche assist, qualche buona giocata. Però sarà difficile capire quando schierarlo, a mio giudizio. Ok? Magari vi segna nella giornata in cui lo lasciate in banchina e vi fa schifo quando lo schierate. Poi abbiamo tre nomi. Destro, Scovolse e Nellamers. Destro, ragazzi, è la classica scommessa che fanno molti vecchi vantallenatori. Però anche qua sarà un po' complicato capire che tipo di stagione potrà fare. Doppia cifra? Difficile. Sarà discontinuo come al solito. Magari lo schierate e non vi fa nulla, lo lasciate in banchina e vi segna. Scovolse invece si sta mettendo in luce. Appunto sta trovando sempre più spazio con Mijajlovic e sta facendo anche delle buone prestazioni. Ha già segnato. Insomma, potrebbe essere l'anno, diciamo, della scommessina come sesso slot di Scovolse. Ma ce n'è uno che mi piace un po' di più ed è Lammers. Lammers, oltre a già segnare, in realtà l'avevo già, diciamo, sottolineato nell'aggiornamento precedente che vi avevo fatto. Perché i giocatori dell'Atalanta, ragazzi, rendono bene anche da subentrati. Quindi, o lo prendete in coppia con Zapata, o lo prendete da solo, potrebbe regalarvi qualche gioia. Qual è l'unico problema? La schierabilità, perché non essendo sempre titolare dovrete un po' capire quando schierarlo. Magari, in partita dove l'Atalanta avrà poi l'impegno di Champions e viene dato come titolare, potete dargli una chance. Perché, ragazzi, il giocatore è davvero forte. Come sesto slot, secondo me, è buonissimo. Come quinto già inizia a essere forse un po' costoso. Poi dipende dal numero di partecipanti. Poi qui ho segnato altre scommestine. Sansone, Majoral, Di Carmine, appunto Muriki, Ha, Hege del Milan, Karamo, Hasoro e ce ne sono anche altri che sono rimasti fuori. Però questi sono giocatori, secondo me, da osservare. Cioè, da analizzare il rendimento e utilizzo che l'allenatore farà di loro in queste settimane, mesi. Poi dipende quando avrete le altre asse di riparazione, potrete valutare se andarli a prendere successivamente. A mio giudizio, già con i nomi che ci sono qua in alto al file che vi ho analizzato a settembre, potrete benissimo compilare il vostro attacco. Soprattutto il vostro bel tridente, mi raccomando, lì in cima, eh. Ricordatevi le analiste che vi ho fatto appunto a settembre. Detto ciò, ragazzi, vi auguro buona fortuna per le vostre aste. Non abbandonate il canale. Lasciate un bel like, ragazzi, come sostegno. Se non siete ancora iscritti al canale, ovviamente, unitevi. Se non mi seguite anche sui social, vi ricordo, in descrizione trovate il mio account Instagram. Seguitemi anche su Twitch, ragazzi, Carmi Special TV. Li faremo alcune live, forse una stasera. Vediamo se ci riesco, almeno in una mezz'oretta. Vediamo, ragazzi. Vi annuncerò tutto anche tramite Instagram. Detto ciò, da Carmi Special tutto. Buona Assa del Fandacalcio e viva il Fandacalcio, ragazzi. Ciao.